Un'area urbana si chiama Fair Tech Talks perché in realtà sono delle chiacchierate, vengono fatte da delle persone che hanno esperienza, che hanno pratica e che hanno sostanzialmente una capacità di avere misurato sostanzialmente i propri interventi. Il nostro stile di vita e la nostra attività produttiva ci porta ad avere la difficoltà di danneggiare le risorse. Le città possono essere viste come dei veri e propri siti all'interno dei quali ci sono le risorse per poter sfruttare questi sprechi e farli diventare delle nuove materie prime e delle nuove risorse. La miniera urbana è in realtà l'insieme dei siti che a livello di una città ha un proprio metabolismo. La miniera urbana però c'è, vuol dire che ci sono spazi per poter andare a distillare, ad estrarre delle risorse che consentono di ridurre gli impatti sull'ambiente. Il consumatore è quindi il soggetto che ha la capacità di estrarre queste possibili ori dalle miniere urbane e il cittadino in modo particolare. Tutti i modelli di consumo implicano chiaramente comportamenti più o meno premianti. In questo caso il modello di consumo nostro standard è veramente grave. Come vedete la gran parte di noi possiede degli elettrodomestici che usa il 50%, possiede delle automobili che lascia ferma per il 92% del tempo, mangia e butta via circa il 31% del proprio cibo, usa l'acqua ed è butta via circa il 40%. La miniera urbana si chiama Fair Tech Talks perché in realtà sono delle chiacchierate, vengono fatte da delle persone che hanno esperienza, che hanno pratica e che hanno sostanzialmente una capacità di avere misurato sostanzialmente i propri interventi. Stefana è un'antropologa delle pratiche digitali, è cofondatrice di Clean Web Initiative e vi farà una presentazione sul tema dell'intelligenza collettiva al servizio dell'innovazione sostenibile. Voglio mostrarvi come è in atto, che cosa sta succedendo nell'ambito climatico, come stiamo in un certo senso, come stiamo cogliendo, come stiamo usando le nostre capacità collettive per questa sfida mostruosa che abbiamo davanti. Attualmente ogni giorno, e questo è il primo elemento collettivo di quello che stiamo facendo, ogni giorno delle persone ci aggiungono, in un certo senso, quello che trovano online nelle loro pratiche, che ha a che fare con dei servizi o dei prodotti per una vita sostenibile che hanno anche una componente digitale. Poco alla volta abbiamo creato questa specie di motore di ricerca, il few want tunnel. Io parlavo di una specie di intelligenza collettiva nella produzione, abbiamo tanta gente che ci sta aiutando a costruire questa base, ma quello che secondo me è più interessante è l'intelligenza collettiva che si sta formando in questa comunità sempre crescente di innovatori. Uno è il fatto effettivamente di cercare di disintermediare, una delle caratteristiche, se volete, del web, ma anche di quello che noi pensiamo essere il modo in cui l'intelligenza e la cultura evolve, è anche grazie all'apertura di tante informazioni, per cui tante di queste cose sono aperte, sono disponibili e chiaramente abbiamo anche iniziative sull'apprendimento, iniziative di attivismo, però l'idea che si possa effettivamente trovare delle alternative di consumo è molto presente. Tutti questi servizi che hanno una componente digitale forte hanno un ruolo importante da giocare nella trasformazione, perché sono degli strumenti che ci permettono non solo di cambiare le abitudini, ma anche di cambiare in un certo senso collettivamente alcune delle pratiche. Buttavamo nell'indifferenziato quando proprio non se ne veniva a capo, mancando clamorosamente l'obiettivo. La nostra intuizione invece è stata di creare uno strumento che aiutasse a riconoscere ogni singolo prodotto e ci dicesse per ogni singolo prodotto come differenziare. Junker riconosce ogni prodotto dal suo codice a barre, ti indica i materiali di cui è composto e in che bidoni vanno gettati, sempre secondo le regole del comune in cui ti trovi. Il mondo ha urgente bisogno di ragazzi così, grazie di esistere. Abbassi ancora di più l'indifferenziato, quindi riduci ancora di più quel sacco nero in cui c'è il tutto misto. Questo ci mostra quanto la collaborazione sia sentita, sia entusiasta e sia generosa. Stiamo aiutando a cambiare le abitudini degli italiani nei confronti quantomeno della differenziata. Noi stiamo standardizzando i comportamenti di tutti, li stiamo spingendo, la chiamiamo la spinta gentile, tutti a compiere lo stesso tipo di azioni. Io ti ringrazio molto, questa è un'altra delle esperienze che vengono fatte nelle cucine perché le start up che hanno utilizzo di tecnologia però hanno interesse a fare impatto il più delle volte trovano uno spazio non nei garage perché sono applicative, non sono di costruzioni di prodotti tecnologici hardware diciamo, sono soprattutto software e molte sono anche le signore che ci lavorano e quindi vengono sviluppate in cucina, infatti già anche è stata sviluppata in cucina dove ci sono tanti prodotti ma soprattutto dove c'è moltissima socialità. Allora Studio Map è una start up innovativa che si occupa di geo intelligence, quello che facciamo principalmente è proprio studiare il territorio tramite le immagini satellitari. Quanto è importante la qualità della vita per voi? Non sempre usiamo la metrica della qualità della vita per fare delle scelte. Tutti i dati quindi da questa miniera di dati che le città producono raccoglierli, integrarli in un unico luogo quindi sollevare il lavoro a chi aveva l'esigenza di raccogliere queste informazioni e di elaborare degli indici di qualità della vita per appunto inserirla proprio come metrica nelle decisioni. Dobbiamo tutti insieme raggiungere degli obiettivi perché abbiamo visto che non è più sostenibile il modello di consumo che abbiamo.